Ciao, come ti chiami? Nino di Costanza Come si chiama il tuo ristorante? Il Mosaico Dove si trova? Casa Mecce La Terme Ischia Pote Numero di coperti? Ma, 20, 22 Da quanti anni sei in cucina, circa? Una ventina Quante ore di solito stai in cucina? Forse è meglio dire quante ore non spiagno a cucina Cosa ti piace di più del tuo lavoro? La passione che mi dà giorno per giorno E invece quella che ti piace meno? No, credo niente Il tuo sapore preferito? Il mio sapore preferito? Diciamo tutto ciò che mi dà delle belle sensazioni all'affatto Il tuo piatto preferito nella tradizione italiana? Sicuramente tutti i piatti dell'infanzia Qualcuno in particolare? Ma, qualsiasi Gli spaghetti, le polpette, la frittata, qualsiasi altro Hai un piatto che ti contraddistingue oppure che uno deve assolutamente assaggiare Se ti vuole conoscere? Ma diciamo che i piatti che sono presenti in carta Sono tutti i piatti frutto di un studio, di una ricerca Quindi sicuramente uno vale l'altro L'ingrediente che hai nel cuore? L'olio e il cassareggio Da dove ti arriva l'ispirazione? Ma diciamo sicuramente dalla tradizione Dal territorio, dalle nostre origini, dall'infanzia Hai un grande maestro che vuoi ringraziare? Sicuramente tutti quelli che ho incontrato Che ho incontrato nel mio cammino professionale E tutti i ragazzi che lavorano qui Adesso dimmi tre parole per definire la tua cucina Sicuramente emozionale, passionale e sensitiva Adesso hai importantissimi 30 secondi Per convincere il popolo di Youtube A venire a mangiare nel tuo bello e buono Il mosaico a Ischia Sicuramente, come dico sempre Il ristorante è un luogo dove si va per provare delle emozioni Noi cerchiamo di fare il possibile Per suscitarne di continuo Quindi spero che questa cosa possa bastare Grazie mille